In Australia sarebbe impensabile fare una riunione pubblica di qualsiasi livello, parlo dell'assemblea scolastica ma anche delle riunioni del consiglio comunale o di tutti i livelli governativi, sarebbe impossibile fare una di queste riunioni senza prima fare quella che viene chiamata acknowledgement of country, cioè il riconoscimento della terra. È una frase, si recita una frase prima di qualsiasi evento pubblico con una formula che più o meno dice ci troviamo sul territorio tradizionale dei, dico una popolazione aborigina, voluntary people e riconosciamo i loro anziani passati e presenti e riconosciamo il fatto che loro sono custodi di questa terra sulla quale noi ci stiamo riunendo. Molto spesso, sempre più spesso, anche nei siti degli enti pubblici c'è alla fine c'è una nota che dice questo edificio, l'edificio della nostra organizzazione sorge sul territorio della popolazione, si dice il nome delle popolazioni aborigine originarie di quel luogo. Ora, quando io mi sono trasferita a Cagliari, per un breve periodo ho flertato con l'idea di elaborare qualcosa di simile per le popolazioni nuragiche. La Sardegna ha una ricca e tormentata storia che continua anche oggi e parte di questa storia, all'interno di questa storia ci sono anche le popolazioni nuragiche o la popolazione nuragica, ora gli storici mi correggeranno, non sono molto versata in storia sarda purtroppo perché la storia sarda che adesso spero venga insegnata nelle scuole quando io ero bambina non esisteva affatto. Ecco, a me è venuta in mente una cosa simile anche un po' per fare l'occhiolino e un po' prendere in giro i gruppi indipendentisti sardi che a volte mi fanno sorridere, a volte li chiamo i sardetti maledetti perché, vabbè, ne parlerò più avanti. Sì, mi è venuta in mente appunto di fare un riconoscimento del fatto che la terra in cui ci troviamo adesso dove ci stiamo riunendo è territorio tradizionale che originariamente è appartenuto alle popolazioni nuragiche noi riconosciamo questo fatto e porgiamo i nostri rispetti ai loro anziani del passato e del presente questa idea diciamo che non è uscita al di là delle mura domestiche quindi non l'ho mai proposta dubito che la proporrò però la volevo condividere con voi. Ecco qua Grazie mille! Grazie a tutti.